I due innamorati L'intera vicenda ci ha pensato l'informatissimo porta nel vicolo delle news Uomini e Donne, l'annuncio di Ursula, Bernardo e Sossio a Roma, si sono lasciati e ripressi più volte durante Uomini e Donne, ma ora Sossio e Ursula fanno successo È in arrivo un bobbè, quindi non è più tempo di giocare La notizia della gravidanza della Bernardo è stata accolta con assoluto entusiasmo dal parterre del trono Oreo, persino Gianni Spagna, che in passato ha sempre avuto dei contrasti con Sossio, si è mostrato emozionato e felice per questo inaspettato evento Un lungo tira in modo Sossio e Ursula si sono conosciuti diversi anni fa sul trono over di Uomini e Donne Dopo aver scelto di uscire insieme dal programma di Canale 5, i due ragazzi hanno accettato di mettere alla prova i loro sentimenti partecipando alla versione di The Countdown Presentando alcune differenze di tempo, i due ragazzi non hanno superato la prova dell'Isola dell'Amore e sono tornati a casa Successivamente, approdati di nuovo in studio dalla De Filippi, l'ex calciatore ha compreso di essere innamorato della dama e il rapporto tra i due si è ristabilito Ecco l'ecografia della gravidanza della Bernardo, a distanza di alcuni mesi da quella riappacificazione, Sossio e Ursula sono tornati al trono over per annunciare la gravidanza di lei Presto diventeranno genitori. Stando a quanto si legge dagli spoiler e i vicoli dell'Amore, i due sono apparsi entusiasti e ragionati. L'ex dama ha persino mostrato a tutti l'ecografia della Bernardo Grazie a tutti